Buongiorno a tutti, sono Vincenzo, tecnico Midland che si occupa delle action cam e accessoristica moto e oggi sono qui per parlarvi del Bike Play Guardian, il nostro nuovo prodotto che vi accompagnerà nei prossimi viaggi. Bike Play Guardian è un sistema che permette di accedere alle principali funzioni del tuo smartphone tramite un display da 5 pollici, touchscreen, waterproof, capacitivo, quindi utilizzabile anche con guanti, con funzione Mirroring che duplica lo schermo dello smartphone per ridurre le distrazioni in sella alla moto. Grazie alla compatibilità con i comandi vocali si integra con la maggior parte dei dispositivi sul mercato, iOS o Android. L'abbinamento al telefono è molto semplice. Per iOS basta attivare sullo smartphone Bluetooth, Wi-Fi e GPS. Selezionare Bike Play trovato tra i dispositivi Bluetooth. In automatico si aprirà la schermata CarPlay mostrando tutte le funzioni disponibili. Selezionare Usa CarPlay. Tale operazione di abbinamento sarà necessaria solo la prima volta che si usa il Bike Play. Per le connessioni successive sarà tutto automatico. Basterà tenere attivi Bluetooth, Wi-Fi e GPS. Per quanto riguarda l'abbinamento del vostro interfono o periferica audio, non dovete preoccuparvi. Se il dispositivo audio era già abbinato allo smartphone in precedenza, non sarà necessaria alcuna configurazione aggiuntiva. Per una maggiore sicurezza durante la guida, Bike Play Guardian può essere comandato dal microfono del vostro interfono installato sul casco, perché è compatibile con i comandi vocali che consentono di attivare tutte le funzioni senza dover toccare lo schermo. Ehi Siri, metti un po' di musica! Stai per ascoltare Adinovalta Italia e dall'app Spotify. Oltre alle funzionalità CarPlay e Android Auto, Bike Play Guardian è anche un DVR con ben due telecamere. Vi consente infatti di registrare tutto quello che accade intorno a voi, sia davanti che dietro la moto. Potrete riguardare le riprese effettuate in qualsiasi momento direttamente dal vostro smartphone, utilizzando l'app dedicata. La cam posteriore può essere utilizzata come un vero e proprio specchio retrovisore, dandovi un'ampia visuale di quello che accade dietro di voi. Bike Play Guardian è inoltre un vero e proprio computer di bordo, infatti consente di visualizzare velocità, altitudine, e inoltre, abbinato ai sensori di pressione in dotazione, consente di monitorare in qualsiasi momento la pressione dei pneumatici e la temperatura degli stessi. In caso di pressione bassa, un allarme in rosso comparirà a tutto schermo e vi avviserà in caso di pressione bassa per potervi fermare in tutta sicurezza. Con Bike Play Guardian abbiamo un miglioramento dell'esperienza di guida, tenendo tutto sotto controllo, senza doversi distrarre. L'installazione è semplice e immediata, con i vari adattatori in dotazione, Bike Play si adatta alla maggior parte dei tubolari o altri tipi di aggancio. Per quanto riguarda il collegamento elettrico, Bike Play ha tre connettori rapidi, a cui vanno collegate le due telecamere e l'alimentazione. Abbiamo inoltre una doppia possibilità di alimentazione, infatti Bike Play Guardian si può alimentare sia tramite porta USB, sia collegato ad un positivo sotto chiave, quindi con i due cavi direttamente collegati all'impianto elettrico della moto. Il prodotto è già disponibile presso tutti i rivenditori Midland o sul nostro sito midlandeurope.com